Tornano a crescere i casi di contagio da Covid-19. In campagna, ieri, certificati nuovi 927 casi di contagio su 15.130 tamponi effettuati. A Torre del Greco, 25 positività accertate, di cui 2 in regime ospedaliero e 23 in isolamento domiciliare e 96 nuove guarigioni registrate. Attestato anche il passaggio di 5 soggetti positivi dall'isolamento domiciliare al regime ospedaliero. Sono quindi 309 gli attuali positivi nella città corallina. A Castellammare di Stabbia sono risultati positivi al coronavirus 23 cittadini nelle ultime 24 ore, tra i nuovi contagiati ancora giovani, un piccolo di un anno e due bambini di 5 anni. Si registrano però, tra i casi positivi, cittadini di età avanzata. In totale, nello Stabbiese sono stati lavorati 267 tamponi, per cui la percentuale del rapporto tra test lavorati nei laboratori e di nuovi positivi è dell'8,5% circa. Dichiarati guariti anche 12 cittadini di Castellammare. A Torre annunziata paura per il sindaco Vincenzo Ascione, il primo cittadino, dopo essere entrato in contatto con un soggetto risultato positivo al covid-19, ha deciso di sottoporsi precauzionalmente al regime di quarantena presso la propria abitazione, in attesa dell'esito del tampone già effettuato nella giornata di ieri.